Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di tre cose da fare e tre cose da non fare per sedurre un uomo. E voglio iniziare dalle tre cose da non fare che una donna non deve fare per sedurre un uomo. Allora, la prima cosa è, diciamo, la strategia dell'essere compiacente, cioè del compiacere in tutto e per tutto per, nella speranza, scusate, nella speranza di farlo capitolare, cioè fare tutto quello che lui ti chiede nei tempi in cui te lo chiede e esattamente come vorrebbe lui. In questo modo sei matematicamente sicura di non sedurlo, matematicamente, perché vai a bloccare ogni possibile, diciamo, emotività. E noi sappiamo che la seduzione si basa solo sull'emotività, è solo l'emotività che seduce, nient'altro. E quindi, se tu ti comporti in questo modo, non fai nulla che produca emotività. Quindi questa è la prima cosa che assolutamente devi evitare di fare. La seconda cosa che non devi cercare di fare è quello di cercare di persuaderlo, cioè di dargli delle argomentazioni logiche. Ah, io sono la donna giusta per te, ma vedi che guarda che io sono proprio quella che va bene per te, quella che fa il caso tuo, io sono così, io sono cosà. Intanto chi si loda si imbroda e poi, come dire, la persuasione a livello logico e razionale innesca soltanto dei meccanismi di difesa, per cui lui avrà soltanto dei meccanismi di difesa, cioè cercherà di difendersi perché ti vedrà come una manipolatrice. Quindi questa è veramente un'altra cosa che devi assolutamente evitare di fare, evitare di fare. Non serve a niente. Anzi, oltre a non servire a niente, è pure controproducente. La terza cosa che devi evitare di fare è quella di credere che attraverso il sesso lo puoi far innamorare. Il sesso è importante perché attraverso il sesso, ma con l'innamoramento non c'entra assolutamente niente. Niente. Zero. Non c'entra nulla. Anzi, ci sono uomini che si innamorano desiderando di fare l'amore. Non facendolo. Facendolo si disinnamorano un po'. So chi è che ci sono esponenti anche ben più autorevoli di me che nel web dicono che sesso è amore. Io non sono d'accordo. Assolutamente. Cioè, beh, a meno che non chiamiamo amore all'attività sessuale, va bene. Cioè, per carità, uno può chiamarlo come vuole. Però, quello che noi intendiamo che è l'innamoramento, cioè desiderare una persona, il fremer al pensiero di una persona, bla bla bla, col sesso non c'entra niente. Eh, non credo che mi risponderà mai la persona in questione. No, c'è ancora questo raffreddore. Però, per dire, c'è qualcuno che crede, appunto, ripeto, ben più autorevoli di me, che dice che sesso è amore. Io non sono assolutamente d'accordo. Perché se i nostri progenitori primitivi avessero dovuto aspettare di essere innamorati per fare sesso, noi non saremmo qua. L'accoppiamento è una cosa, è un'esigenza, è una spinta, è una pulsione. Possiamo chiamarlo come vuole una spinta istintiva, l'istinto ripocrativo, l'istinto ludico, tutto quello che vuoi. Ma ci sono persone che, proprio perché non fai sesso, si innamorano. Si innamorano di desiderio. È ovvio che se il desiderio coincide col possesso, come fai a desiderare? Uno dice, desideri poi possiedi. Beh, desideri poi possiedi. Però una volta che hai pagato il possesso, se non hai, diciamo, una volta che hai pagato il desiderio, si sgancia tutto, no? Quindi bisogna sempre far possedere un po' di meno rispetto a quelli che sono le esigenze. Quindi non credere di usare il sesso per farli innamorare. Il sesso, anzi, magari può avvenire e poi andarsene pure via. Il sesso è un'esca, che poi può essere utilizzata per, diciamo, per prendere il pesce, ma devi metterci l'amo, perché se non ci metti l'amo non hai possibilità di catturare il pesce. Anzi, il pesce si ingrassa e poi se ne va. Ovviamente l'esca serve, perché se metti solo l'amo il pesce non andrà mai ad abboccare a quel... non andrà mai ad abboccare, però per sedurre serve amo ed esca. Quindi queste tre cose sono assolutamente da evitare di fare. Ora vediamo invece le cose che sono da fare. Allora, la prima cosa è produrre emozioni. Produrre emozioni. Devi dargli emozioni. Come gli si dà emozioni? Beh, intanto innescando tutte le fantasie. Per dire, se hai una fantasia feticista, lavorerai lì, ti presenterai con le scarpe fetiche, cioè farai delle cose. Devi innescare dei desideri. E quello è, se tu, se lui ti percepisce come la possibile persona che non gli appaga le fantasie, ma gli le scatena quelle che ha dentro, eh, quello è una grande attrazione. Si genera una grande seduzione. Poi altre emozioni che pensi che possono essere presenti in quella persona. Ma potrebbe essere l'abbandono, il rifiuto, la disistima, il senso di colpa, qualunque emozione possa coinvolgere. Sicuramente sarebbe meglio dare emozioni che danno anche un appagamento, diciamo, un po' alla logica, no? Ma è tipo la, non so, la stimolazione di una fantasia è sicuramente una delle migliori, sicuramente. Bisogna avere l'abilità di capire. D'altra parte, le abili seduttrici sono quelle che poi, una volta capita la fantasia, utilizzano l'obbiamento, la comunicazione, nel modo di fare, per amplificare questa fantasia. Questa è una cosa da fare. Cioè, come dire, ci vorrà un po' di tempo. Tra l'altro è anche importante per, diciamo, è anche importante imparare questo per te stessa, perché riesci poi a capire, come dire, sempre di più ad affinare le tue capacità di coinvolgimento. Cioè, è una abilità molto importante quella di riuscire a capire quali sono le esigenze emotive, non logiche di una persona, emotive. Poi, un'altra cosa è, diciamo, se questa persona non si mette a complementare le tue esigenze, oppure è impegnato, oppure quello che è, tu senti libero di frequentare anche altre persone, non pensare che quella sia l'unica persona sulla faccia della Terra. Quindi, se non è complementare, io sono libero di frequentare chi voglio. Frequenta anche altri uomini. Chi te lo fa fare? Di fossilizzarti su una persona che per giunta non ti muore dietro, tra virgolette. Uscire con più uomini contemporaneamente ti permette di fare confronti, aprire i tuoi orizzonti, tenere alta la tua autostima. Questo è importante, perché se tu sei focalizzato solo su una persona, avrai veramente poche possibilità di sentire, diciamo, di essere appagata comunque, a meno che questo non appaghi, allora è un altro discorso. Ma se c'è un tiro e molla, se non c'è una certezza, se non c'è una situazione di questo genere, devi uscire con altri uomini. E questo fatto di uscire con altri uomini ti aiuta al terzo punto, che è fondamentale, che è quello di mantenere il distacco dal risultato. Distacco dal risultato significa prendere il controllo delle proprie emozioni, non, diciamo, non diventare schiavi emotivamente degli altri, per cui non essere bisognosi, se non trovo un'emozione. Cioè io devo essere in grado di trovare le emozioni, ovvio interagendo con altre persone, ma devo essere in grado di trovare delle emozioni. Quindi non devo essere schiavo del fatto che se quella non mi dà emozioni non le trovo da nessun'altra parte. Se quello, se quello, non mi dà emozioni, le trovo da un'altra parte. Quindi questo è fondamentale. Avere il controllo della situazione è veramente importante, fondamentale per, diciamo, il controllo delle emozioni, per avere il distacco dal risultato. Il distacco dal risultato cosa significa? Significa che io non sono attaccato, non sono bisognosa. E se tu non sei bisognosa, ovviamente avrai molta più facilità di coinvolgere. Vale un aforisma. Se ti comporti con le persone che ti interessano, come ti comporteresti con quelle che non ti interessano? Lei già si adotte. E questa è un'altra cosa importante. Poi un'altra cosa importante è proprio quella di, appunto, riuscire a renderti conto che gli oggetti di desiderio servono a... sono al servizio nostro. Non dobbiamo essere nel servizio dell'oggetto di desiderio. Questa è una cosa fondamentale della base, fondamentale del distacco dal risultato. Bene, per questo video è tutto. Scusate. È tutto. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale. E iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao.